Chiede che, da un inizio, la nostra fraccia indica chiaramente che il nostro pro-RAFT ci si tratta di un vostro cammino con más, veramente, per il quale è il concetto che il nostro team di RAFT per portare certi cambiamenti, per assicurare il porto più beneficioso per l'arruzione, ma che non si tratta di rinforzare, per questo è molto importante, per questo ci si tratta di un controllo for once e for all ma che ci stanno indicando, e ci non mi pare fina, che durante il nostro paese, però nel nostro paese, nel nostro paese, il nostro paese, il nostro paese, il nostro paese, i il nostro paese, la nostra fraccia, da un'inversione di un'eirresponso, facendo un'inversione di persone, dalla terra, di una situazione difficilta, ma che a finali dì non ne faccio la ossia, che la nostra rinforzazione, c'è una forma di entrare, un'unico di entrare, il nostro paese, attimità di imposto e mi chiede che è il proprio palpable di nostro popolo, per cui è la situazione attuale, che mi chiede con il popolo sta soffrendo, anche il proprio popolo di mio collega non parlamentare, come una charcha, come una burla, però mi chiede che non stia con il popolo, non sa veramente il dolore del popolo. Praticamente la maggiori del popolo non stia vivendo più una vita digno, ma non stia sobrevivendo, quindi mi chiede che di supervizione qui, non è parte del RAF e ora è in vari aspetti, con nessun governo, questo è un attuale e non per il futuro, e non per la raci e la raci, con fondo nel pubblico, e anche con la prima priorità e la necessità del popolo di Aruba.